... Martedì 17 maggio, San Pasquale, è il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 228 al termine. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.37. La luna si leva alle 22.50 e tramonta alle 6.14. Altra elezione di Doge. Con 39 voti viene eletto Francesco Corner dopo ben 24 o 26 scrutini. Durò in carica solamente 19 giorni. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Precipitazioni, probabilità in prevalenza bassa per piovaschi e rovesci locali sulle zone montane e pedemontane di pomeriggio. Medio-bassa per rovesci temporali sparsi. Temperature in calo, salvo aumenti di notte sulla pianura con differenze anche sensibili rispetto al giorno precedente. Venti deboli moderati in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile. Mare poco mosso. Mare poco mosso.